No 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 Cicchi, se il ministro non si ferma a mangiare, lei non mette le posate, dono. No, ma neanche il fastidio di levarle dalla casa forte, a meno che lei non ci tenga. Oh no, se per me non è il caso. Io all'occorrenza sono anche capace di mangiare con le mani una pagnottella. Pane, peocci, cioostraga, che ha un grande volo di essia. Si riabiliti. Lei crede? Ma si, diaretta a me, faccia, faccia, si fermi a mangiare. Si riabiliti. Lei crede? Ma si, diaretta a me, faccia, faccia, si fermi a mangiare. Lei crede? Time di fare un tempo, felice. Lei crede? Lei crede, che è riporto? Lei crede? Lei crede? Lei crede? Lei crede, che li scrive Lei crede. Lei crede. Lei crede, che è fiduciato per l'ambiglio, Lei crede le pensare, Lei crede. Lei crede, che è un po' erano. E' un po' erano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.